Il 25 marzo scorso nella Casa Comunale di Agropoli si è riunita la giunta a cui è stata proposta dal primo cittadino, Adamo Coppola, un'iniziativa che ha come oggetto lo sviluppo di mobilità sostenibile per la pianificazione e l'organizzazione del territorio comunale, funzionale all'utilizzo di mezzi di trasporto ecosostenibili. Tra le motivazioni di tale scelta rientra la promozione e valorizzazione del territorio attraverso la crescita dell'offerta di servizi legata alla mobilità sostenibile e dello sport all'aria aperta, mountain bike, bike sharing, monopattini elettrici e tanto altro, per consentire di spostarsi nei diversi punti di interesse cittadini, garantendo in questo modo una clientela attiva in tutti i periodi dell'anno e diventando un veicolo di promozione turistica ecosostenibile. La bicicletta, sia classica sia elettrica, consentirebbe di esplorare e di godere al meglio i paesaggi che si attraversano. L'uso degli stessi monopattini elettrici, così come delle e-bike, si sta diffondendo rapidamente in tutta Italia, sempre più in voga in molte città europee, come un mezzo pratico e sostenibile che consente di muoversi nella città. Agropoli oltretutto si presta per tali mezzi grazie alla natura prevalentemente pianeggiante del centro cittadino. Ulteriori vantaggi potrebbero essere noleggiare biciclette e monopattini, rendere pratico lo spostamento dei turisti che scelgono di soggiornare ad Agropoli, in modo particolare coloro i quali arrivano con la nuova fermata alta velocità Frecciarossa, una nuova alternativa anche per gli stessi residenti del comune. Per realizzare tutto ciò sarà necessario predisporre piste ciclabili, apposite aree per la sosta delle biciclette ed aree appositamente dedicate al bike sharing per i turisti ed i residenti. Rappresenterebbe dunque sicuramente un modo per ridurre l'inquinamento ambientale, promuovendo un sano stile di vita.